Musica Eccoci qui, buonasera cari amici, bentrovati, pronto Telenova, oggi dedicato alla nostra salute. E oggi con vivo piacere abbiamo, ospitiamo in studio il professore Arturo Guarino, direttore traumatologia dello sport all'ospedale Gaetano Pini di Milano. Caro professore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, lo vedete anche dal titolo, noi vogliamo porre l'attenzione sulle problematiche relative alla spalla, al ginocchio e all'anca che sono, diciamo, proprio al centro della specializzazione del professor Guarino, soprattutto come trauma dello sport, ma naturalmente poi dopo al Gaetano Pini curano tutti, al di là dell'evento che è accaduto, ovviamente che ha portato un danno fisico alla persona. Allora, professore, iniziando, io ricordo, se qualcuno vuole intervenire lo può fare, il numero di telefono è lo 02, altrimenti brevi messaggi Whatsapp, in questo caso il numero è il 335. Io inizierei dalla spalla. Noi, fra l'altro, abbiamo anche alcune immagini che riguardano la spalla. Il trauma avviene, può avvenire per caduta. Quali sono le principali lesioni che possono capitare? Beh, come vedete dall'immagine proiettata, il complesso scapolo-omerale è fatto di più articolazioni, cioè non c'è soltanto la classica articolazione intesa come spalla dell'omero con la glena scapolare, ma c'è anche l'articolazione che esiste tra la clavicola e la cromion, e diciamo che ci sono tante strutture che in un meccanismo traumatico possono essere coinvolte e quindi andare incontro a problematiche. Partiamo dalle varie fratture della testa dell'omero, o meglio ancora del collo quotidietto chirurgico della testa omerale, che sono abbastanza a carico della persona anziana, cioè in cui c'è la... C'è già un po' di usura, diciamo. No, diciamo che c'è il convivere di una riduzione della trama, quindi della forza dello scheletro associata proprio anche alla difficoltà che queste persone hanno talvolta di rimanere in un buon equilibrio, in un sano equilibrio, quindi si uniscono due condizioni, fragilità dell'osso e naturalmente traumatismo quasi inaspettato e quindi senza reattività che può provocare poi delle lesioni abbastanza gravi. Questo per quanto riguarda l'anziano. Nel giovane tutto questo può avvenire qualora e se il meccanismo avviene con una, diciamo, alta energia. Cioè più è veloce l'inerzia che vede praticamente l'impatto della superficie scapolare o scapolo-merale con il terreno. Durante l'incidente. E più e più può naturalmente creare problematiche fratturative. Ecco, i dolori in generale. Io so, molti hanno problematiche legate alla spalla nel movimento, magari nel dormire la notte. Spesso e volentieri da che cosa sono provocati? Lei, vediamo anche in questo disegno, no? La spalla è un qualcosa di molto complesso tra ossa, muscoli e tendi. Certo, è giustissimo quello che sta dicendo. Dovete pensare intanto che la spalla è un organo, se vogliamo, sospeso. Cioè non è sottoposto al carico. Quindi è chiaro che le geometrie, l'equilibrio dell'articolarità di questa, appunto, struttura articolare sono legate proprio al connubio, a un ideale equilibrio tra varie componenti che sono muscoli, sistema capsulo-regamentoso, veemenza nel creare o nel determinare un certo tipo di movimento, ripetitività di movimenti, ma non soltanto in ambito, diciamo, sportivo, ma anche nella vita di tutti i giorni. Operatori professionisti che, non so, utilizzano molto il mouse, piuttosto che chi in mezzo a una strada lavora con un martello pneumatico. È chiaro che la spalla ne risente in termini di logorio e soprattutto le strutture che sono preposte alla mobilità della spalla. Quindi, ormai nel gergo comune, cuffia dei rotatori, non è più un arcano, è un insieme di strutture tendine che favoriscono il movimento della spalla. È chiaro che più noi coinvolgiamo la spalla in meccanismi ripetitivi e magari anche contro resistenza, più questi possono andare incontro a logorio. Quindi la rottura della cuffia dei rotatori, che ormai è abbastanza, nel gergo, è uno di quelli che richiede poi dei trattamenti che possono andare addirittura dal chirurgico o semplicemente a riabilitativo o ginnico per così ricostruire una sorta di equilibrio articolare. Ecco, spesso si parla anche di infiammazioni. Le infiammazioni scaturiscono da qualcosa in particolare? Allora, l'infiammazione fondamentalmente scaturisce da un overuse, cioè da un sovraccarico. Quindi, se io vado in palestra, prendo due bilanceri da, non so, 10 kg e inizio a comportarmi come se nulla fosse... Magari con una certa rapidità. ...e con una certa vemenza, è chiaro che tutto questo può dar luogo a un processo irritativo che più delle volte coinvolge strutture come il tendine del capolungo del bicipite, che è fondamentalmente quello che esprime la massima forza flessoria e di sollevamento del carico. Quindi meglio andare ad agio? Meglio andare ad agio, meglio andare con gradualità, meglio avere una preparazione idonea prima di sovraccaricare. Però ci sono anche dei lavori apparentemente meno dinamici di quelli che abbiamo espresso, come per dire, tenere un mouse, che anche loro può essere responsabile dell'insorgenza di traumi, o meglio di infiammazioni a carico delle strutture tendine. Dovremmo avere una prima chiamata. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera a tutti voi. Buonasera a lei, prego. Buonasera. Io ho visto il titolo Spalla, Anca e Ginocchio e allora ho detto proviamo un attimo perché io ho un problema di questo tipo. Allora, io soffro di una malattia rara e da circa 7-8 anni non cammino più come prima. Prima potevo anche correre, saltare e fare tutto quello che fanno gli altri. Si chiama paraparesi spastica ereditaria. È una malattia abbastanza rara. Praticamente c'è una spasticità agli arti inferiori. Detto questo, siccome io non posso stare fermo seduto tutto il giorno, perché se no mi fa male la schiena e il casino, allora io cerco di muovermi un pochettino. Io uso delle scarpe ortopediche che mi sono state prescritte. Dovrei usare anche la molla di Codeville che serve un po' per bilanciare lo spostamento del polpaccio ed evitare un recurvatum pericoloso delle ginocchia. Però ultimamente vedo che le ginocchia, fortunatamente, non fanno più un recurvatum. Non tornerò più all'indietro. Io sto camminando sempre senza la molla di Codeville perché la molla potrebbe un pochettino viziarmi. Cioè perché la molla sostiene un po' il peso e quindi non faccio forza io. Ma lo sto facendo così. Sto camminando io una mezz'oretta al giorno. Voglio sapere se rischio qualcosa o no, perché io vedo che tendo a piegarmi in avanti. Ma non so se riuscirà così dal telefono a darmi la risposta. Forse mi dirà che vuole ritermi dal vivo. Però ho voluto provare a chiedere, può dirmi qualcosa? Perché sono un po' piegato in avanti mentre cammino perché cerco di appoggiarmi. Va bene, grazie, buona serata. Che consiglio possiamo dare? Intanto il consiglio è di mettere la molla di Codeville. È una molla per dire un sostegno che è stato ideato da un grande nostro predecessore ortopedico, che è il professor Codeville, il quale appunto creò un sistema per far in modo che la pianta del piede, o meglio il piede, venisse sostenuto in virtù, ai medi, una paresi che coinvolge il tibiale anteriore, che è un muscolo molto importante. Per capirci è quello che ci fa sollevare dal punto del piede quando noi camminiamo. Se no avremo un andamento, come ho detto, steppante, in quanto non riuscendo ad sollevare il piede, lo stesso andrebbe a incespicare e a creare dei problemi di equilibrio. Io, chiaramente, il signore che ha telefonato è affetto da una patologia, ahimè, di tipo cronico-degenerativa, che porta di fatto a una ipofunzione sempre graduale e, ahimè, progressiva, della muscolatura, specie degli arti inferiori. Il tentativo, o meglio, il modo di andare, di porsi in avanti, nasce un po' come ricerca di equilibrio, in quanto la muscolatura è un po' più deficitaria nel sostegno. Il mio consiglio, comunque, è di portare la molla di Codeville, perché questa favorisce sicuramente un modo di diambulare più vicino al normale. Tende a dare una spinta, un aiuto. Diciamo che evita che il piede cada perché il tibiale anteriore, che è un muscolo molto importante, non è più in grado di sostenerlo in quanto deficitarlo dal punto di vista dei messaggi neurologici. Ecco, poi volevo chiederle un tema che molti ce l'hanno chiesto anche in altre trasmissioni, è un po' quello della fisioterapia. Volevo chiedere qual è la sua opinione. Io credo che spesso chi opera nel suo campo, dopo le cure iniziali, naturalmente chieda al paziente di sottoporsi a della fisioterapia. In effetti è un qualcosa che può dare grosso contributo, grosso aiuto. Io direi che rappresenta il più delle volte il 50% della buona riuscita di un intervento chirurgico. Cosa vuol dire? Intanto definiamo bene fisioterapia, di solito per la fisioterapia si intende l'utilizzo di strumentari che in qualche modo possono aiutare una ripresa, ad esempio come nel caso del nostro paziente, non so, fossero le elettrostimolazioni, cioè sono applicazioni di forze, di scariche elettriche che in qualche modo vanno a stimolare il tessuto muscolare, quindi a cercare di riprenderlo un po' nella sua tonicità. Poi ci sono tutti vari, non so, nell'immaginario popolare, ultrassuonoterapia. C'è varie modalità, sì. Invece chinesi-terapia, che penso sia quello a cui lei si riferiva, è l'avvalersi di persone naturalmente professionisti, specializzati nella conoscenza della motricità, della mobilità e quant'altro, per fare in modo che si possa aiutare un'articolazione a riprendere il suo range motion, cioè la sua funzionalità, in virtù appunto di sollecitazioni attive, che quindi coinvolgono in prima persona il paziente, aiutandolo passivamente invece a raggiungere e magari a superare determinati limiti. Quindi per noi è fondamentale, perché necessariamente dopo qualsiasi tipo di intervento chirurgico, e mi permetta di fare una piccola segnalazione, la moderna traumatologia in particolare si prefigge di tenere quanto meno fermo un paziente dopo essere stato operato, perché se no comunque subentra una sorta di rigidità che... Quindi subito in piedi. Che viene... No, beh, diciamo che anche grazie all'avvento di tutti gli nuovi strumentari chirurgici, placche, mica ed altro, noi siamo in grado veramente di poter rimettere il paziente in piedi nel giro di pochi giorni. Questo è importante. Questo ha avvantaggio di tutte quelle possibili conseguenze che comporta un allettamento protratto a livello polmonare, a livello cardiocircolatorio e quant'altro. Quindi diciamo che la fisio-chinesi-terapia è assolutamente fondamentale e vincente nell'arrivare a dei buoni risultati. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Buonasera, Alessio, sono Mauro da Milano, saluto il dottore. Buonasera, Mauro, prego. Volevo chiedere una cosa al dottore, visto poi proprio nello sport, quando si parla di rottura del legamento o dei legamenti oppure stiramento del legamento, perché a me è successo con la caviglia, però quando avevo vent'anni in incidente. Ma la rottura del legamento prevede un intervento e tutto. Lo stiramento è un'altra cosa, è quello che avevo preso io, ma alla fine è più difficile curare la rottura di un legamento o lo stiramento di un legamento, perché io andai avanti parecchi mesi anche con la Ionoforesi, tutti i suoni e tutto. E poi ebbe una ricaduta al cedimento della caviglia mentre camminavo. Questo in 35 anni mi è capitato due volte, adesso ormai ho 60 anni, per fortuna non mi è successo più niente. però sono sempre rimasto nel dubbio perché all'epoca un dottore dove ero anni guarda, quando mi hanno incessato, mi ha detto che era meglio che te lo rompevi. Io mi ricordo questa frase. Era più facile ancora. Sì, non lo so, ma io vi sto parlando di una quarantina di anni fa. Grazie. Grazie Mauro, grazie. Bellissima domanda, molto razionale e molto intelligente. Stiramento rottura. Stiramento non è altro che una sollecitazione che va oltre il limite senza di una struttura ligamentosa, senza però di fatto romperla o magari questa rottura avviene a livello micrometrico. Quindi è molto importante quando si ha una distorsione di caviglia in questo particolare caso, è una valutazione clinica del danno capsulo-legamentoso. Qualora ci fosse una distensione senza rotture grossolane, ebbene, anche per una casualità traumatica che nell'immaginario popolare è sempre stata considerata una stupidata, l'immobilizzazione, anche per 3-4 settimane, diventa fondamentale. Cioè è triste a volte vedere delle proniosi su delle distorsioni di capsulo-legamentoso di caviglia importanti, diciamo ridotte a 7-10 giorni, perché non servono nemmeno per iniziare quei 7-10 giorni a ricrearsi quei processi riparativi che poi sono la base di un buon recupero della funzionalità di quell'articolazione. Quindi nel caso specifico del nostro ascoltatore probabilmente non è stata rispettata una immobilizzazione a cui poi dopo sia seguita un graduale e progressivo recupero della funzionalità. Perfetto. Adesso abbiamo una breve pausa pubblicitaria poi ancora insieme al professor Guarino. A tra poco. Eccoci ancora in vostra compagnia e in compagnia naturalmente del nostro prezioso ospite il professor Arturo Guarino. Volevamo adesso introdurre l'argomento relativo al ginocchio e vi dico alcuni nomi che credo che un po' tutti conoscano. sono distorsioni, lussazioni, rotture tendine, lesioni al minisco e tendine crociato. Legamento crociato. Legamento crociato. Quindi sono tutti i nomi che più o meno abbiamo sentito di cui abbiamo sentito parlare. Ecco questo è il ginocchio e diciamo la verità avete fatto dei passi avanti notevolissimo. Spesso sentiamo dei campioni dello sport che si rompono il crociato che hanno problemi al minisco e però dopo un periodo di cura tornano al proprio sport. Senza ombra di dubbio. Chi vi parla in particolare ha iniziato tanti anni fa in cui per dire la chirurgia endoscopica non era ancora stata così immaginata fino a questo livello. Esatto. Per cui per patologie meniscali per rotture dei menischi che per capirci non sono altro che una sorta di ammortizzatori che abbiamo all'interno della nostra articolazione e che hanno un contenuto idrico che gli conferisce una certa elasticità e quindi in grado di a tutire tutti gli impulsi pressori che provate a immaginare quando corriamo si possono creare all'interno della nostra articolazione. Una volta Ecco, vediamo menisco laterale e mediale. Eh sì, abbiamo due menischi menisco mediale e menisco laterale come abbiamo due crociati che rappresentano gli stabilizzatori tra gli stabilizzatori dell'articolazione insieme alla periferia che invece è fatta dai legamenti collaterali. Dicevo, tornando a quello che stavo appunto dicendovi prima quando si rompeva un menisco l'intervento consisteva nell'aprire l'articolazione addirittura nei primi tempi si passava attraverso il collaterale mediale quindi diciamo che l'intervento è un intervento molto invasivo e soprattutto per un calciatore o comunque un atleta agonista voleva dire immobilizzazioni anche per 40-45 giorni poi quindi un recupero su un ginocchio particolarmente diciamo lungo come dire bloccato e quindi molto spesso non dico che il soggetto non tornasse però era molto difficile un ritorno a un agonismo tornare a livelli precedenti a un agonismo importante con la chirurgia endoscopica cioè che ci permette attraverso due buchini di penetrare con una sonda collegata a una telecamera e poi dall'altra parte con degli strumenti dedicati noi riusciamo a fare una chirurgia assolutamente di risparmio del menisco il quale è fondamentale perché preserva dall'insorgenza dell'artrodice quindi dell'usura dell'ogorio e della diciamo praticamente distruzione un po' del tessuto cartilagino ecco ma spesso e volentieri sentiamo parlare della rottura del crociato ma questo perché diciamo sono le azioni che mettiamo in essere noi che sono a volte esagerate violente eccetera o effettivamente è un qualcosa di un po' delicato no è un qualcosa che grazie al cielo ci garantisce una stabilità in senso anteroposteriore della nostra articolazione la quale come tutte le strutture che possono essere soggette a dei bracci di leva particolari per cui chiaramente si può diciamo può intervenire un suo cedimento una sua rottura molto spesso sono meccanismi in iperestensione cioè praticamente con un ginocchio che va in iperdisteso con anche una componente rotazionale allora a quel punto si crea ahimè un meccanismo praticamente a ghigliottina per cui il legamento crociato anteriore che è all'interno del nostro ginocchio quindi non lo possiamo percepire palpatorialmente tende a rompersi rispetto a tempi addietro la diagnostica è diventata molto fine sia quella clinica e naturalmente aiutata dall'imaging quindi dal ricorso a strumenti particolarmente sofisticati come la risonanza magnetica che ci permettono di avere veramente una finestra laddove è successo qualcosa e ci permette quindi di capire esattamente cosa fare e di conseguenza poter effettuare un planning magari prechirurgico e si riesce anche a riattaccare allora il legamento ahimè una volta rotto non è più vascularizzato e quindi va come dire sostituito noi abbiamo dei tessuti banca nostri a cui ci rivolgiamo che preleviamo in maniera tale da rendere praticamente impossibile un rigetto quindi una intolleranza questi tessuti banca che vanno dal tendine rotulio ai sei codetti gracile semi tendinoso tendine quadricipitale eccetera ci permettono veramente di poter fare una chirurgia di buona ricostruzione del legamento crociato e quindi di ristabilire un ideale equilibrio articolare infatti tutto sotto controllo artroscopico quindi con delle incisioni ridicole ridicole e questo è stato un grande progresso ovviamente dovremmo avere una chiamata pronto buonasera 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 a lei prego posso parlare? si buonasera vorrei fare un po' di domande al dottor faccia una domanda la prego veloce ti faccio una si io ho un dolore alla spalla sinistra pronto? si dolore alla spalla sinistra si e al ginocchio destro e alla spalla sinistra il braccio sinistro non riesco ad azzardo bene dal 2016 che ho fatto di tutto tacche radiografie cure ma non ho risolto niente possiamo chiedere la sua età? si 75 75 anni va bene per quanto possibile daremo una risposta grazie della chiamata sicuramente siamo in un terreno di degenerazione capsulo legamentosa probabilmente anche con delle note di infiammazione quindi io direi che consiglierei al nostro ascoltatore di intanto di rivolgersi per prima cosa al suo medico di base per una valutazione diciamo in primis e poi lo stesso sicuramente riterrà necessaria una valutazione più specialistica e da questa si potrebbe magari portare questo signore a fare dell'attività ginica riabilitativa ma non con i concetti che ormai sono un po' nell'immaginario di tutti ma facendo degli esercizi più che altro di distensione dell'articolazione perché fondamentalmente quello che su un'articolazione non portante come la spalla molto spesso bisogna decomprimere anziché diciamo andare a imprimere pressioni sui capi articolari è molto difficile chiaramente cadere nel particolare perché la valutazione clinica credetemi è fondamentale ad persona ecco siamo quasi in conclusione però avere un'opinione appunto del professore anche sulla questione dell'anca se ne parla molto molti sono interessati alla famosa protesi si ricorre a una protesi quando c'è un logoramento un'usura eccessivi si si ricorre a una protesi quando esiste uno scompaginamento della sfericità della testa del femore e una non più ideale congruenza con l'acetavolo che è questa specie di coppa che ospita la testa femorale i due devono coincidere perfettamente diciamo che dovrebbero rimanere due superfici sferiche con una certa distanza l'una dall'altra per favorire per garantire una giusta mobilità della testa femorale per parlare di un argomento di questo genere dovremmo iniziare adesso forse finire per qualche giorno perché esistono tante situazioni anche di tipo congenite come la displasia dell'anca che grazie al cielo fino a 30-40 anni fa incideva molto nei soggetti neonati e quant'altro e che grazie a una diagnostica molto precoce ci ha permesso e ci permette tuttora di poter provvedere proprio in termini di prima crescita del soggetto a in qualche modo realizzare le condizioni ideali perché questa patologia che molti anni fa era assolutamente invalidante possa non esserlo più la protesica chiaramente è l'evoluzione ahimè di un concetto di logorio che rende praticamente impossibile il movimento dell'articolazione e di conseguenza un dolore da attrito che credetemi nel nostro organismo non è assolutamente ben sopportato sicuramente professore la invito a tornare perché le sue parole sono veramente ci istruiscono e ci interessano tantissimo il tempo termina qua io vi ricordo che pronto Telenova tornerà ovviamente domani ringrazio tantissimo il professore Arturo Guarino direttore traumatologia dello sport dell'ospedale Gaetano Pini di Milano tra l'altro anche ex è stato un medico dell'Inter molti se lo ricordano anche sotto questa veste e adesso invece è il momento di chiesa nella città con Anna Maria Braccini a tutti buon proseguimento buona serata buona serata buona serata